ciao a tutti io sono il dylan dogofilo oggi con questo video diamo ufficialmente il via alla recensione del maxi old boy di marzo 2015 il prossimo maxi uscirà a luglio 2015 quindi tiratura di tipo quadrimestrale sono tre le storie presenti in questo corposo libro in questo video analizzeremo la prima delle tre ovvero chiuso nell'incubo successivamente in altri due video recensirò anche le altre due rimanenti denominate a volte non ritornano e sciopero generale iscrivetevi al canale per non perdervele copertina di gigi cavenago che si riconferma un ottimo artista capace di produrre un ottimo disegno con una particolare stesura del colore pennellata e sfumata al punto giusto il tutto contornato da un'atmosfera soffusa che medesima molto nel mondo onirico che che prevale nel classico di landor vecchia scuola un artista che integra alla perfezione la sua rappresentazione nel contesto dello stile minimal e material design che troviamo in questa rinnovata veste grafica del maxi old boy il colore prevalente stavolta è il verde a differenza dell'arancione utilizzato per il primo maxi old boy che uscì ad halloween 2014 chiuso nell'incubo testi e sceneggiatura del signor di gregorio disegni dell'artista di vincenzo come reagirebbe dylan nel momento in cui il suo amico e assistente graucio venisse a mancare questo tema è già stato affrontato nelle cronache dal pianeta dei morti una mini serie spin off apparse in alcuni di landor color fest albi giganti altri fuori dalla serie regolare quelle erano storie dove in un futuro non troppo lontano venivamo catapultati in una londra post apocalittica dove si incontrava un graucio divenuto zombie ed un dylan molto depresso a capo della squadra anti zombie mentre in questa storia distaccata dalle cronache del pianeta dei morti troviamo un dylan contemporaneo quindi 33enne che perde la sua spalla comica a causa di un mostro o meglio di un demone che sarebbe questo qui infatti dylan non essendo riuscito ad afferrare per tempo la sua pistola bodeo lanciata dal suo fido assistente determina il triste destino di esso ovvero essere ferita morte dal mostro che lo teneva alle strette come vediamo qui in questa scena e qui invece la scena dove dylan non riesce ad afferrare la pistola bodeo una grave infezione dunque non dà scampo a graucio il quale viene ricoverato insieme ad altre persone ferite a loro volta dal mostro graucio abbandona con questa morte fatale dunque il pianeta terra ora dylan verrà messo a confronto con il peggior nemico dell'uomo ed il più forte da sconfiggere la battaglia con il proprio essere la battaglia con se stesso di gregorio ci espone in un viaggio onirico travagliato e all'insegna dell'horror la condizione in cui riversa l'animo attuale di dylan che seppur sopportato da bloc grande amico ma soprattutto gran padre non riesce comunque a darsi pace decide di cambiare drasticamente vita vedete qui graucio ridotto in fin di vita qui il viaggio travagliato sotto consiglio della sua attuale fidanzata loren che dovrebbe essere qui da qualche parte eccola qui sotto suo consiglio decide di accettare un nuovo lavoro vale a dire un semplice impiegato in una grande azienda e di trasferirsi quasi definitivamente a casa della sua nuova fiamma per incominciare una nuova vita vedete qui dylan è troppo depresso allora convive praticamente tutto il giorno tutti i giorni con questa sua nuova fiamma una nuova vita che però si porta dietro tutti gli incubi passati presenti e futuri dove per l'appunto dylan rimarrà chiuso imprigionato così come scritto nel titolo di questa avventura ed è a questo punto che l'indagatore dell'incubo decide di reagire affrontando il più grande di essi la lotta contro la depressione depressione che ha generato in principio il demoni e che una volta sconfitta fa scomparire a sua volta questo mostro la lotta avviene quando dylan ritorna a casa sua per prendere gli ultimi effetti personali e dopo voleva ritornare dalla dalla sua fidanzata e dice appunto voglio tornare a casa mia per prendere le ultime cose però viene sopraffatto istantaneamente da questo incubo riesce fortunatamente a sconfiggerlo una storia ben articolata che però delude nel finale troppo affrettato e mal steso graucio in realtà non è morto ma semplicemente i medici hanno confuso le cartelle cliniche con quelle di un altro paziente somigliante e tutto torna dunque alla normalità graucio in realtà è riuscito a superare questa gravissima infezione come vedete qui tornata a casa è tutto a posto si può dire che capite ora che è un finale abbastanza insignificante buttato lì in fretta e furia forse anche perché le sole 98 pagine non erano sufficienti per elaborare un finale più convincente un vero peccato storia comunque molto buona che si svaluta però per colpa di un finale tendenzialmente sciatto mentre per quanto riguarda i disegni dell'illustratore maurizio di vincenzo possiamo affermare che sono davvero molto buoni di vincenzo è riuscito a rappresentare molto bene le situazioni caotiche e uniriche scaturite dalla mente di giovanni di gregorio ottimi anche i disegni per quanto riguarda la componentistica horror che possiamo trovare soprattutto nelle nelle scene uniriche guardate qui graucio senza mani poi bisogna leggere la storia per capire il perché davvero che schifo nel senso molto buoni disegni ma fanno davvero impressione schifo dal dal punto di vista dell'impressione perché proprio sono ricreati molto bene di conseguenza l'horror fa il suo gioco e fa paura complensivamente una storia da sette e mezzo bene la recensione finisce qui se ti è piaciuta condividi questo video dove vuoi e con chi vuoi iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul mondo dell'indagatore dell'incubo noi ci vediamo al prossimo video dedicato al mondo di Dylan Dog ciao 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 ciao